Anche il comune costiero di Giulianova sta facendo di tutto per adottare l'evento dell'estate, il Jova Beach Party, fortemente a rischio nella città di Vasto per motivi di ordine pubblico e sicurezza. I biglietti venduti sono più di 30.000 e l'annullamento dell'evento porterebbe sicuramente delle ripercussioni negative, soprattutto a livello di indotto. Ma per cercare di trovare una soluzione favorevole al comune giuliese, l'assessore al turismo e manifestazioni, Marco Di Carlo, è stato in Puglia e in particolare nella città di Barletta, ospite degli organizzatori del Jova Beach Party per discutere dell'evento. Sì, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, sarebbe un evento importante, importante per la città, importante per la provincia, ma penso proprio importante anche per la regione, oltre 45.000 persone. L'evento del 17 di agosto dovrebbe svolgersi a Vasto e io mi auguro che Vasto riesca tra l'altro anche a risolvere le problematiche che ha di viabilità. Noi, come dicevo, abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo iniziato un po' a fare delle ricognizioni, tra cui anche un sopralluogo direttamente all'ultimo beach party di Giovanotti che si è svolto a Barletta e ci siamo resi conto delle difficoltà anche organizzative. Però noi confermiamo la disponibilità in attesa del verdetto della commissione di vigilanza indetta dalla Prefettura che si terrà mercoledì. Una visita quella a Barletta che ha portato, quali novità? Sicuramente toccare con mano quello che è un evento così grande, così importante, ti può far capire meglio di quelle che saranno poi le problematiche, le difficoltà a cui saremo soggetti a dare delle soluzioni, soluzioni di viabilità, soluzioni di parcheggio, soluzioni di sicurezza, è un evento veramente grande. Però noi siamo pronti e soprattutto siamo ambiziosi per progetti importanti. Qual è la location che il Comune di Giulianova ha proposto? Il Giovan Beach Party prevede la location sulla spiaggia, quindi abbiamo individuato tre aree, due barra tre aree che poi eventualmente da mercoledì nel caso in cui dovesse saltare vasto inizieremo a lavorare e a scegliere quella che appunto più si addice per un evento di questo genere.